Spero di ripendermi un attimo perché ci aspetta una giornata molto lunga Ora lasciamo il nostro bungalow incastonato nella roccia Proprio sopra Binguin andiamo a prendere la barca verso Musa Penida Bisognere a GX per trovare le mante Salutiamo il bungalows Motorello mezzo scassato Zaino che pesa una ventina di chili E te vado a surf 46 minuti e ci siamo Stiamo passando le zone più trafficate di Bali e non c'è nessuno What's up dude? It's good? Good? Welcome For la missione di oggi è quella di andare a nuotare con le mante a Musa Penida Ma l'obiettivo di questo video è mostrarvi esattamente come imposto ogni singolo contenuto che girerò con la GoPro La giornata sarà totalmente improvvisata perché non sappiamo bene a cosa stiamo andando incontro Però tutte le spiegazioni voglio farle esattamente come faccio nel GoPro Master Così almeno vi rendete conto di come è strutturato il corso What's going on here? Give me a little breath For the first place we will go to Manta Point Yeah We will see a Manta Race Hope you guys enjoy it And then he doesn't know yet but we're gonna cliff jump in Blue Lagoon and you're jumping with us No 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 I'm scared I'm scared thank you I don't want it Yeah 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 thank you Hello good morning thank you E devo prendere il drone in mano e non è così semplice perché la barca continua a muoversi topics Wow Batto il cuore eh Yaz he My heart bro It's going to get my heart pumping huh Siamo arrivati Questo a posto qua si chiama Cleaning Station Perchè ci sono i pesci che puliscono le mante di continuo quindi sono sempre qua in teoria That was a cleaning station for e manyi Right there? Yeah right there Okay cool spero che ci vedremo spero che la manzo sarà calma ho già messo lì ma più che altro perché sopra ci metto il filtro il filtro è importantissimo per rendere i colori più vivaci sott'acqua questo è un filtro Sandmark costa tipo 30-40 dollari e lo consiglio sempre per fare riprese sott'acqua prima di entrare cambio le impostazioni da 1080 a 60 o 120 vado a 2k a 120 frame perché adesso inizia ad essere epico bisogna fare delle riprese molto cinematiche l'importante è non inseguirla perché se asceguiamo scappa quindi se rimaniamo a questo punto lei torna sempre stai tornando stai tornando tutti stai tornando sono e lo scuja stai tornando stai tornando vedi spazano un dettagliare oh mio dio indonesia style ragazzi wow è abbastanza alto 14 metri 13-14 dai c'è Daniel che vuole fare un backflip c'è un gainer ha un po' paura ma secondo me può farcela lui ha deciso di farlo correndo mio dio è mio dio mi sa che lo faccio da fermo da qua grabo bene con i piedi sul legno e mi butto devo assicurarmi di avere i piedi ben asciutti 14 metri da lassù ancora un dive prima di andare a caccia un po' di pulizia del corallo già che ci siamo ma quello importante è ricordarti che finiamo col filtro facciamo ripetere fuori dall'acqua senza nevarlo anche questo poi un piccolo consiglio se scattate con la custodia e con questo filtro è quello di andare sull'acqua riempire la custodia d'acqua e anche il filtro perché altrimenti si può fermare un po' di condensa dentro delle bollicine oppure magari anche una sacca d'aria che rimane tra la custodia e il filtro che chiaramente rovina tutta la gente per la custodia per la custodia per la custodia massacri per la custodia è molto semplice e non faccio tante riprese magari 4-5 mi assicuro che siano una diversa dall'altra magari una incontra luce magari una radio un pesce magari una tabossare al filo 4-5 riprese e basta fate così trovatevi una canzone con un buon ritmo e avrete già un buon video da 30-40 secondi missione direi più che compiuta ok magari con le mante poteva andarci un po' meglio ne abbiamo visti solo due però comunque è stato bellissimo notare con questi animali è sempre molto magico spero che questo video un po' più raw un po' più alla buona possa comunque ispirarvi a migliorare i vostri contenuti GoPro qualunque sia il vostro intento che sia magari documentare un viaggio un'esperienza con amici magari anche per promuovere il vostro proprio business chissà questi contenuti possano funzionare per qualsiasi cosa faccio sapere che il GoPro Master tornerà online per un tempo molto limitato ad un prezzo speciale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti